All'interno dell'Unione Europea si applicano regole ben precise per la produzione alimentare. Tuttavia, l'UE importa alimenti da paesi terzi che non rispettano tali standard. Ad esempio, la carne bovina di importazione ha standard inadeguati circa il benessere animale. Inoltre, vengono importati alimenti geneticamente modificati, come la soia, la cui coltivazione in paesi come il Brasile o l'Argentina consuma enormi superfici e risorse naturali. La soia, prodotta in questo modo, causa perdita di biodiversità, accaparramento di terre e deforestazione, anche delle foreste pluviali. Inoltre, pesticidi pericolosi e vietati all'interno dell'UE hanno effetti dannosi sull'uomo, sugli animali e sull'ambiente dei paesi esportatori. Slow Food Italia chiede quindi all'UE di applicare le stesse regole per tutti gli alimenti, compresi quelli di importazione, adottando le cosiddette clausole specchio. Una questione di trasparenza ne va della salute dell'uomo, dell'ambiente e degli animali. Grazie a tutti.